Ben ritrovati, seconda parte di Buongiorno Friuli, la nostra rassegna stampa sportiva parte come di consueto dalle prime pagine dei quotidiani locali con l'Udinese in primo piano, sono i temi di mercato che tengono banco ma anche le polemiche sulle dichiarazioni di Ianto. Andiamo ad aprire dunque la pagina sportiva del messaggero Veneto, in primo piano abbiamo la caccia al centravanti, spunta anche Tomane, accanto ai nomi di Cerri e Bacconen c'è il bomber del Tondela, queste le ultime per quanto riguarda il mercato dei bianconeri, non solo la pista che porta all'allenatore Cardoso che rimane in polso e con il messaggero Raggino Pozzo dal calcio lusitano potrebbe anche pescare un nuovo attaccante. Andiamo anche a vedere alcuni degli spunti che arrivano dal mercato per affiancare a Kevin Lasagna il brasiliano Felipe Viseu che sta concludendo i sei mesi di prestito al Flamenco. I nomi che circolano appunto sono quelli del giovane Alberto Cerri ora alla Perugia in serie B, 194 centimetri, 15 gol e 10 assist e poi ci sono anche i nomi di Rolando Mandragola con 27 troppi questi costi per l'acquisto assieme a Cerri. Si parla ancora di Andrea Pinamonti dell'Inter e poi ci sono i nomi degli ultimi giorni con Stefane Bacconen, 26enne franco camerunense dello Strasburgo in scadenza di contratto. Per quanto riguarda questo attaccante portoghese di cui fa il nome oggi il messaggero Tomane, classe 92, ora gioca nella Tondela, club di mezza classifica della Liga Nosso, la massima serie lusitana, una punta centrale di 186 centimetri, fa parte della scuderia che portò in Italia l'ex bianconero Bruno Fernandes, ora allo Sporting Lisbona. Questi dunque i nomi per quanto riguarda gli attaccanti che potrebbero entrare nelle mire della società bianconera. Per quanto riguarda invece altri bianconeri, quelli impegnati con l'Under 21, il pareggio degli Azzurini contro la Francia senza scuffette, il portiere di Remanzacco era rimasto in panchina nell'1-1 di Besançon, mentre ha giocato Pezzella, è entrato al 61esimo, grande protagonista all'esterno di proprietà dell'Atalanta Capone che è appena entrato con Brignola per sostituire Bonazzoli e Parigini ha trovato il gol con un bellissimo destro a giro. Per quanto riguarda le altre notizie di mercato, la Juventus che studia la clausola da 110 milioni per Riccardi dovrebbe valere solo all'estero, ma per convincere l'Inter potrebbe essere proposto lo scambio con Higuain che avrebbe un po' del incredibile. Per quanto riguarda le altre trattative, Lottito, presidente della Lazio, confessa o già ha rifiutato 110 milioni per Milinkovic Savic, vuole tenerlo nella sua Lazio il presidente Lottito. Ci sono notizie anche curiose come quella di Daddy Ofanka, un tweet del rapper con addosso la maglia dell'Udinese, questa è la foto che sta circolando su Facebook e Twitter. Per quanto riguarda invece le altre polemiche, in casa Bianconera hanno fatto clamore ieri le dichiarazioni di Janto sul ritiri dell'Udinese, la società Bianconera non ha commentato, ma naturalmente ha fatto scattare la multa per il giocatore, ci sono anche le dichiarazioni dell'hotel executive che vuole chiedere i danni al cieco per le sue dichiarazioni per quanto riguarda la struttura. Tornando al mercato invece abbiamo una breve che riguarda il tavagnacco femminile, il mercato donne con la Klelland che lascia la società. Dopo tre anni è finita l'avventura della scozzese, ieri l'ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook, un addio ai colori giallo-blu muovendo anche il mercato del calcio femminile. Tre anni ha abbastanza tempo per chiamare le compagne amiche e le amiche famiglie, ha dichiarato la Klelland che, ricordiamo, aveva tatuato anche questo tatuaggio che l'aveva voluto sancire il legame forte con il Friuli. Andiamo ancora avanti con le pagine sportive del messaggero Veneto, si parla di un friulano che sta facendo le gioie dell'Atalanta, le ha fatte questa stagione Brian Cristante di Casarsa. Il papà che dice l'oda alle doti del friulano scelto da Mancini per il nuovo corso della nazionale non si è mai montato la testa o demoralizzato, continua a lavorare e impegnarsi. Una gioia indescrivibile vedere Brian in azzurro queste le parole del papà Walter Cristante con la cartolina sul ragazzo che dopo l'Atalanta ha iniziato anche il corso in nazionale. A proposito di nazionale, il nuovo corso targato Mancini e Balotelli da un calcio al razzismo con il giocatore che molti vorrebbero rivedere anche nel campionato italiano oltre che in nazionale. Poi per quanto riguarda invece lo sport in regione c'è un appuntamento da non perdere a Cormons per l'europeo del 1968, ci saranno Federico Buffa e Sergio Tavcar domani che rigiocano con i ricordi della finale Italia-Yugoslavia, l'unico europeo vinto dalla nostra nazionale. Per quanto riguarda le altre notizie c'è il ciclismo con il bilancio di De Marchi e Rosso di Buia dopo il Giro d'Italia appena concluso. Il momento del giro, la birra sullo Zoncolan. Avrei voluto una vittoria ma in Friuli che emozioni. Vedete anche un'immagine di quando De Marchi il 19 maggio scorso ha messo piedi a terra dopo le gallerie dello Zoncolan. Il bacio alla moglie Anna e la festa di compleanno con la birra. Queste le parole di De Marchi in questa intervista proposta dal messaggero. E poi il basket, il basket dalle pagine sportive con la GSA che saluta coach Lino Lardo ufficialmente. Se ne va un pilastro della rinascita di Udine. Dalla Serie B alla vittoria a Trieste davanti a 7.000 tifosi. Ai playoff trilling, tre anni indimenticabili e nei momenti difficili sempre il colpo di classe. Vedete le immagini di coach Lino Lardo, gli abbracci e poi il bacio con la compagna Malipo Miglio, allenatrice della Delser. Per quanto riguarda il mercato della società del presidente Pedone, per cavina è fatta. Ma per ora l'Apu ringrazia solo Lino. Nei commenti ufficiali si dice appunto, si saluta Lino Lardo ma manca ancora l'ufficialità in quanto l'ex coach della Snyder deve chiudere il rapporto con l'Andrea Costa Imola. Ma è lui l'erede di Lino. Ieri intanto l'Apu si è congidata dal tecnico con il comunicato ufficiale. Per quanto riguarda proprio i playoff della 2 c'è l'Alma Trieste che raddoppia e mette già Treviso con le spalle al muro. Per quanto riguarda la semifinale e la lotta per la 69-65 il risultato finale. Andiamo anche a vedere altre curiosità dal mondo dello sport. Il colosso di Udine che trai nei camion, si parla di Carlo Ceglia, 30 anni, secondo uomo più forte d'Italia, professionista di strongman, pesa 148 kg e sogna il tricolore. Per quanto riguarda invece il rugby, mondiali under 20 contro la Scozia. L'Udinese Rizzi sarà titolare classe 1998. Il ragazzo, la promessa friulana, sarà dunque in forza alla nazionale di rugby under 20. Lasciamo le pagine sportive del Messaggero Veneto. Andiamo su quelle del Gazzettino per tornare a parlare di Udinese. Le andiamo a recuperare assieme anche sul Gazzettino. In primo piano la questione Ianto dall'estero a Maina, la bandiera dell'Udinese, critiche all'albergo, ritire alle scelte e poi sul futuro spero di giocare un nuovo campionato magari in Inghilterra o in Spagna. Naturalmente ricordiamo la società che ha voluto multare Ianto proprio per queste dichiarazioni. Per quanto riguarda invece il mercato, il Gazzettino scrive a centro campo, si guarda al tedesco Kral, di proprietà del Crotone, piace a Samp e Genoa, alcune delle voci di mercato che riporta il Gazzettino. Poi per quanto riguarda la panchina, il nome più caldo sembra essere quello di Miguel Cardoso, 46 anni e cresciuto come vice di Fonseca allo Shakhtar in Ucraina, oggi tecnico del Rio Ave in Serie A portoghese. Per quanto riguarda poi le altre notizie, si parla anche in ribasso delle quotazioni degli altri due portoghesi, Sapinto e Abel Ferreira, ieri è circolata anche una voce suggestiva, quella di Vincenzo Montella, allenatore, totò di Natale, di nuovo a Udine da dirigente. E poi per quanto riguarda invece i giocatori, sarebbe vicino a Nicolas Opoku, gigante di 1,90 m che gioca in Tunisia, al African Tunis e poi gli altri nomi. Per quanto riguarda il fronte delle uscite, la posizione di Rodrigo De Paul che può partire verso Firenze o Porto e poi Albano Bizzardi. Quasi tutta la stagione era dato vicino al Lugano, sponsorizzato da Berami, gradirebbe la destinazione del portiere dell'Udinese. Per quanto riguarda poi la società, si ricorda la notizia di ieri che l'Assemblea della Lega ha eletto il vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia nel Consiglio di Lega, composto da quattro membri nominati assieme agli amministratori delegati di Inter, Milan e Atalanta e prende corpo il nuovo organigramma che ha visto scendere i propri consiglieri da 11 a 4. Un ruolo naturalmente di prestigio per l'avvocato Campoccia, vicepresidente dell'Udinese. Parliamo anche di Scuffet che è in partenza, Pezzella-Azzurrino per quanto riguarda Eurosport nella sua personale formazione e flop della stagione ha inserito Scuffet, ma naturalmente per quanto riguarda poi l'Under 21 nella sfida di ieri con la Francia abbiamo visto Scuffet che è rimasto in panchina, ha giocato invece Pezzella. Allora, dall'Udinese, dalle pagine del Gazzettino dedicate all'Udinese ci spostiamo a parlare di Pordenone perché anche qui sul fronte dei Ramarri ci sono attese importanti per quanto riguarda il nuovo allenatore. Nella sfida Lovisa Serena entra in campo, Mister X si parla del caso Zironelli, un nuovo personaggio che potrebbe affiancare economicamente il presidente Mestrino. Il destino dell'allenatore che piace al Pordenone resta legato a programmi e scelte della società veneta. Intanto per quanto riguarda la Serie C, Pavanel ha trovato l'accordo con la Triestina. 48 ore decisive per il futuro. Il nuovo mister della Triestina sarà Pavanel. Per quanto riguarda invece il Pordenone, le ultimissime di ieri, scrive il Gazzettino, c'è un misterioso personaggio pronto ad affiancare lo stesso Serena nella gestione del Mestre. Una risposta che dovrebbe arrivare entro domani, una nuova data lasciata dal numero 1 nero-arancio per scegliere le sue riserve nella guida della società che si interseca anche sul futuro dello stadio, del baracca di Mestre che non è agibile e quindi la formazione dovrebbe continuare a giocare a Porto Gruaro e poi si capirà anche se sarà sbloccato Zironelli oppure no nella trattativa con il Pordenone. Per quanto riguarda proprio i play-off di Serie C, leggiamo, questa sera comincia poi l'ultima fase, il rammarico di non esserci con Lucarelli che saluta. Questa sera andiamo a vedere assieme, cominciano le 20.30, i quarti di finale, le gare in programma sono Cosenza-San Benedettese, Feralpi-Salò-Catania, Reggiana-Robursiene, Suttirol-Vitervede, dunque quattro squadre che hanno partecipato al girone del Pordenone. Con domenica 18 invece il ritorno a campi invertiti, il rammarico naturalmente della squadra, allenata fino a fine campionato da Fabio Rossitto con l'uscita di scena al primo turno contro la Feralpi-Salò. E poi si ricorda anche l'ultima corsa di Ale al Franchi nel giugno 2017, Alessandro Lucarelli sotto la curva dei crociati dopo aver segnato il rigore decisivo, il capitano si è ripetuto al picchio di La Spezia che ha permesso appunto al Parma di tornare in ando dopo tre anni dal fallimento. Notizia di ieri che Lucarelli, 41 anni a luglio, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, assieme a 333 partite, tre promozioni consecutive con la maglia giallo-blu. Alessandro Lucarelli. Andiamo anche a parlare delle altre notizie di mercato che interessano il Pordenone. Chi finisce nel Mirino per la squadra del prossimo anno c'è il nome di Alessandro Fabri, terzino classe 1990 che gioca al Mestre e quindi con Mauro Zironelli. E poi gli altri nomi che escono, non c'è solo l'esterno appunto nel Mirino, un altro accostamento riguarda un'ala offensiva classe 91, si tratta di Gianluca Turchetta, seconda punta che ha disputato una buona stagione con la maglia della Casertana. Gli altri che potrebbero lasciare il centro dei marchi sono Manuel Nocciolini, arrivato a gennaio che non dovrebbe rinnovare il contratto e poi Patrick Ciurria a Pordenone all'esterno, ha vissuto un ottimo inizio di stagione, poi è andato in calo e poi anche il portiere Simone Perilli che piace alla Salernitana attualmente, però non ci sono conferme di trattative in corsa. I sogni in Riva al Noncello, il Mulo, Federico Maracchi, contatti con l'entourage del giocatore, continuano, sono frequenti ma bisogna attendere novità da Trapani dal momento che il centrocampista Triestino è ancora di proprietà del club siciliano. E poi si parla anche del possibile ritorno di Semenzato, Terzino che ha giocato sotto Tedino, proprio al Pordenone, come fantasista piace Minesso del Bassano, ma pure in questo caso si tratta solo di primi approcci, naturalmente ancora lunga la stagione del mercato per quanto riguarda il Pordenone e di Pordenone andiamo a parlare anche con la pagina sportiva del messaggero dedicata alla squadra della destra a tagliamento. Marchetto è sicuro, zero da spettacolo e fa pure risultati. Il vice di Tedino subentrò al Vicentino alla guida della Sacilese, un'ottima scelta, con lui il Pordenone vincerà divertendo. Boscolo Papo è un piccolo iniesta, bravo nel fraseggio corto, trova sempre una soluzione, lo vedo bene là in mezzo assieme a Burrai. Queste le dichiarazioni del vice di Tedino. Ci fermiamo un attimo per il consueto sguardo alla situazione del traffico, della viabilità cittadina Udine, allora diamo il buongiorno a Stefano Passantino della Polizia Friuli Centrale. Buongiorno, com'è la situazione in città? Buongiorno a lei. Al momento la situazione è tranquilla, c'è un normale traffico dovuto all'ora di punta, però non ci sono particolari criticità dovute all'eccessivo traffico. Vorrei ricordare che in questi giorni continueranno a svolgersi dei lavori di asfaltatura e per la precisione su tutto l'asse tra Viale 23 Marzo e Viale Trieste ci saranno i lavori, ci saranno delle chiusure, delle corsie per favorire i lavori di asfaltatura e in Via Moli Nuovo. In Via Moli Nuovo si protrarranno per tutto il mese di giugno, mentre in Viale Trieste e in Viale 23 Marzo continueranno fino circa a metà maggio. Comunque dipenderà ovviamente dal tempo, dal clima che se sarà clemente permetterà di svolgere i lavori in velocità. Questa è dunque la situazione della viabilità e le indicazioni per i prossimi giorni. Ringraziamo Stefano Passantino della Centrale Operativa della Polizia Municipale mentre continuate a vedere le immagini delle telecamere che ci arrivano dai punti nevralgici della città con un traffico che è in costante aumento vista l'ora di punta. Continuiamo la nostra rassegna stampa sportiva riprendendo la pagina del messaggero di Pordenone. Si parla delle altre notizie legate alla Serie C con il Renate che attende l'ok di Antonino Asta e ufficiale intanto l'approdo di Pavanella alla guida della Triestina. A Vicenza tutto pronto per l'inizio della nuova era Bassano-Renzo Rosso con il presidente della Virtus Bassano Rosso, un inventore dei jeans diesel che parteciperà come unico soggetto all'asta per rilevare il Vicenza. Le due formazioni vicentine dunque potrebbero unirsi in matrimonio. Si ricorda anche che stasera tornano i play-off con l'andata dei quarti di finale. Per quanto riguarda lo sport pordenonese, altre notizie che arrivano dai dilettanti con la SPAL Cordovado, Nonis il nuovo tecnico, dilettanti scelto il successore di Paesan. Il fiume Bania medita il colpo Scianna per quanto riguarda il suo futuro. Andiamo anche a dare uno sguardo alle altre notizie sportive dedicate al pordenonese, l'Italian Bahia, le mini pronte a dare battaglia sui greti, già un poker di All4Racing iscritte alla gara in programma dal 21 al 24 giugno. Intanto le piogge degli ultimi giorni scompaginano il tracciato lungo i fiumi. Lasciamo le pagine sportive del Messaggero Veneto, andiamo ad aprire le pagine dei quotidiani nazionali, a partire dalla Gazzetta dello Sport con Mario Ballotelli in primo piano. Lo vedete, questo giocatore deve giocare in Italia. Ballotelli con la cresta, Mario è rinato pure in nazionale, Marsiglia, Dortmund e Arsenal lo vogliono, ma lui preferisce la Serie A. Raiola parla con la Roma, Genoa e il Parma ci pensano. Si racconta Mario, se fossi stato bianco avrei avuto meno guai. Queste le dichiarazioni dopo il ritorno in nazionale richiamato da Mancini. Le altre notizie che troviamo in prima sulla Gaza. Chelsea e PSG assalto a Higuain e Nedved apre il vicepresidente alla Juve. Resta solo chi è felice e dopo il Mondiale vedremo se parte. Arrivano Morata o Martial. Queste dunque le ultime su Higuain che potrebbe cambiare maglia, rientrare nell'affare anche con Icardi. Depay, l'Inter sfida il Milan, la Champions è un assist. Stilione chiede 30 milioni per l'esterno. I Nerazzurri lavorano sullo sconto, un derby per l'Olandese. Per quanto riguarda invece la Roma, vertice con l'Atalanta ora cristante. Più vicino l'incontro a Trigoria. Chiesti 25 milioni più il bonus per Cassi interessato a De Frel. Il Toro tratta invece verissimo del Santos. Andiamo a vedere anche il rompipallone di Genegnocchi. Chelsea a Londra è già scoppiata la Sarri Mania a Buckingham Palace. Il cambio della guardia lo fanno in tuta. Torna Genegnocchi sul accordo tra l'ex allenatore del Napoli e la formazione londinese. Le altre notizie in prima con il ciclismo. Froome al Tour è diventato un giallo, altro scontro giudiziario. Il basket con la sfida Golden State-Cleveland. Solita finale Curie contro Lebron. E poi la rimonta azzurra dell'Under 21. Uno a uno con Di Biagio, buon pari in Francia. E Roland Garot, c'è Serena, mamma e Catwoman, mi sento guerriera. Mette in luce la foto della miss della tennista ieri. appunto con il look in vista del grande appuntamento con il tennis del Roland Garot. Andiamo all'interno a vedere alcuni approfondimenti sulle notizie. A partire dalla nazionale con Balotelli che chiama, Italia rispondi, Rinato Anizza, Felicina Azzurro vuole la Serie A e corsa. A Mario si sono fatti avanti appunto Marsiglia, Borussia Dortmund e Arsenal. Lui però vorrebbe tornare in Italia con Roma, Genoa e Parma che ci stanno pensando. Per quanto riguarda invece la nazionale dopo la sfida con l'Arabia Saudita, Tony promuove Mario, giusto atteggiamento, il Parma sarebbe ok per lui. Bisogna aspettare che si misuri con nazionali più forti però e consistenti dell'Arabia. Ma Mario, dice Tony, è ripartito bene. Per quanto riguarda poi le altre notizie, scorrendo le pagine della Gazzetta, c'è anche il racconto sul razzismo patito da Balotelli. Io il negro è stato uno schifo, racconta in un libro la sua vita in balia del razzismo. Da bambino non mi facevano giocare perché nero, a Roma in un bar mi hanno tirato un casco di banane. E questi dunque i racconti di Mario Balotelli della sua difficile infanzia. Poi per quanto riguarda anche il giorno dopo della nazionale, si parla degli incastri con Giorginio, Veratti, Mandragola. Il play è un rebus, dopo l'era Pirlo con De Rossi non giovanissimo il ruolo è il più scoperto e il CT deve cercare appunto un regista. Poi venerdì l'appuntamento con la Francia, la formazione di Mancini Balotelli in dubbio, chiese in attacco, spazio a Perin. Pure caldare dal primo minuto, Mancini esalta l'Italia donne che l'8 giugno gioca a Firenze, si gioca il Mondiale e fa gli auguri. Per quanto riguarda invece l'Under 21, vedevamo anche in precedenza il pareggio, 1-1 contro la Francia, prova Gagliardo nel test di Besançon. L'attaccante entra e riprende i francesi passati in vantaggio con Dembele, un risultato eccellente per la squadra di Di Biagio contro i talenti di Ripoli. Una reazione di gruppo e la festa a fine gara. Andiamo avanti con altri spunti di sport dalla Serie A, andiamo a vedere in casa Milan cosa si muove per il mercato. Da Cala a Chessier, gruppo già solido, ora l'ultimo salto. Il mercato dell'estate scorsa dà opzioni a gattuso con Conti rigenerato, un top player si può sognare. Andiamo anche a vedere la Serie B per quanto riguarda le altre notizie presenti sulla Gazzetta. Passiamo a parlare appunto dei play-off, un play-off che sembra una mondiale. Parla Oddo, l'ex mister dell'Udinese che li ha vinti e spinge grosso in zaghi e nesta un pulmino con Rino e Tony per vederli in finale. E parla appunto Mister Oddo delle sfide ad incastro del tabellone per l'ultimo posto disponibile in Serie A. Vedete le sfide si parte domenica 3 dopo i posticipi con Cittadella Bari alle 18.30 e poi Venezia Perugia alle ore 21. Per quanto riguarda invece i play-out per la Serie C domani, la gara di ritorno tra Ascoli e Entella. Ci fermiamo ancora con la nostra rassegna stampa sportiva perché è il momento di fare il punto meteo. Allora diamo il buongiorno a Livio Stefanutto dell'Osmer Arpa per far conoscere ai nostri telespettatori le previsioni del tempo di oggi. Buongiorno a tutti, partiamo bene questa mattina, cielo ovunque sereno sulla nostra regione, soltanto un po' di nubi basse nelle valli alpine e prealpine mentre il tempo è migliore in quota. Il tempo rimarrà direi bene così sereno per tutta la mattinata fino al primo pomeriggio, poi aspettiamoci un po' di instabilità che arriva. Siamo sempre con questa impronta del tempo molto estiva, con mattinate belle e poi instabilità pomeridiana, temperature decisamente alte, anche ieri avevamo superato i 30 gradi, anche oggi in pianura superiamo di nuovo i 30 gradi, attorno invece ai 25-26 sulla costa per effetto del vento di brezza. Quindi tempo bello questa mattina, poi nel pomeriggio sera qualche rovescio, qualche temporale, più probabile direi sulla fascia prealpina e in carnea, è possibile comunque in terza serata anche su qualche zona di pianura. Anche domani è una giornata simile a quella di oggi, quindi ancora bello al mattino e poi di nuovo l'instabilità nel pomeriggio, temperature sempre con impronta estiva e quindi con minime attorno ai 15-16 gradi in pianura e massime sui 30. È tutto. Buongiorno a Livio Stefanuto, previsore dell'Osmer Arpa, che ci ha dato i ragguagli sulla situazione meteo per oggi e per i prossimi giorni. Noi torniamo sulle pagine sportive, dalla Gazzetta ci spostiamo sul Corriere dello Sport. In prima pagina abbiamo Icardi da Sarri. Maurito, prima scelta del tecnico, lo voleva a Napoli, lo chiama alla Chelsea. S. Abramovic, diventato israeliano, disposto a versare all'Inter la clausola da 110 milioni di euro. Di taglio alto invece Igua Out, clamoroso Gonzalo, verso la cessione. Ecco perché la Juve sta pensando di vendere il Pipita, costato 91 milioni a 31 anni, a un prezzo base tra i 55 e i 60. E poi si parla di Gigi Buffon, pare fatto l'affare con il PSG, l'annuncio imminente, il contratto fino al 2020 è già arrivato e deve soltanto essere firmato. Guadagnerà 16 milioni. Si parla poi del razzismo su Balotelli, la fascia da capitano subito, Fulvio Abate la invoca per il calciatore. E poi Ancelotti, CT del Napoli, con vocazioni al via. Dopo la telefonata d'Ampsinger, Carlo contatta Mertens per convincerlo a restare e Verdi per spingerlo a firmare in fretta. Il tennis con mamma serena che incanta Parigi, la Williams torna in campo fasciata da una tutina nera e naturalmente vince. Prima vittima la Priscova. Questa era la prima pagina del Corriere dello Sport, andiamo a chiudere con tutto sport. E anche qua troviamo Higuain in prima pagina, la giostra del gol. Perché? Perché naturalmente con l'addio di Higuain si rimette in gioco tutto il mercato degli attaccanti. La Juve non considera più Higuain incedibile, la cessione può scatenare il clamoroso giro di Bomber che interesserebbe altri sei fuoriclasse coinvolgendo i club europei più importanti. Intanto Marotta, dopo Moreno, sta per soffiare al Barcellona anche il baby fenomeno Busquet. Vedete, oltre a Higuain in questa giostra del gol rientrerebbero Icardi, Benzema, Morata, Cristiano Ronaldo, Lewandowski e Zecco. Per quanto riguarda invece le altre notizie, l'ottito che sfida Agnelli, il presidente della Lazio Lappidario, la Juve non ha i soldi per acquistare Milinkovic e Savic. E poi ancora si parla del Torino, Alberto Manassero che dice Minera Toro, anzi d'oro. Poi Cairo, ecco perché Zaza è diventato un affare, l'inchiesta sul boom dei conti Granata. E ancora Young Lee, una lettera per conquistare il Milan. L'Inter che vede Ramirez in arrivo con sei mesi di ritardo. Politano scavalca Verdi per la fascia. E poi il golf con l'effetto rider si sente. Siamo a più 25% di sponsor, siamo ai blocchi di partenza dell'Open d'Italia. C'è l'intervista al presidente della Federgolf, Montali. È tutto per questa rassegna stampa sportiva. Prima di salutarci vi ricordiamo gli appuntamenti di oggi con l'informazione che ritorna alle 13.30, al Tg di pranzo, poi alle 19 tutti gli approfondimenti serali con il nostro notiziario, se di Sport Chiricrona, che poi in prima serata, questa sera, ritorna Giorgia Bortolossi con la sfida Luca vs Luca, l'appassionante sfida tra Pressacco e Butto con Case da Sogno in Friuli Venezia Giulia. Grazie a Franco Snidero in regia, davvero tutto. Buona giornata. Grazie a tutti.